Io sono Carlo Marzano, faccio parte appunto di questa azienda agricola e siamo specializzati nella trasformazione degli ortaggi e delle frutta che la nostra generosa terra ci regala ogni anno, un po' cercando di perpetuare quella che è la tradizione conserviera della nostra terra che appunto ci è stata un po' trasmessa dai nostri nonni. Ho intrapreso questo lavoro un po' perché sono figlio d'arte, mio padre mi ha trasmesso questa passione. La dimensione agricola che è una dimensione fondamentale può perpetuare quello che è appunto il gusto, la tradizione ma anche i valori profondi, la riscoperta della terra, il contatto con la natura. Noi siamo azienda agricola Marzano, noi siamo terra dei Messapi.